Musica Bellissimi a tutti ragazzi, oggi siamo finalmente tornati su Happy Wheels, il gioco delle ruote felici Non che io abbia mai visto una ruota felice perché la maggior parte delle volte sono tutte quante ruote squartate ma quelli sono dettagli Ovviamente come al solito prima di iniziare questo video come al solito vi chiedo semplicemente di iscrivervi, attivare le notifiche ovviamente anche di lasciare mi piace Prima dovete condividere il video, non è che detto questo poi partiamo col video Ehi ragazzi, browser levels Ecco subito mi ispira Why didn't I doubt this, I don't know Non ho capito cosa Eternal suffering Trovai la... ma porca puttana Stavo leggendo Posso scappare Aspetta Lo sapevo, lo stacchevo Swartrove Allora Cioè davvero l'ho mandato Minchia quante spade che ci ho lanciato Allora, too easy, medium L'ho preso, madonna ho fatto el... Sì ho capito ma... Mi servivano le spade Bene, allora tu muori Anche tu Questo succede quando non vai da dongino Ok, no Dai, muoviti Oh, con l'ascia Madonna Ne puoi con la spada Però con l'ascia Questo succede quando va in chiesa Ho vinto Grazie Hard pvp Vediamo che cos'è Allora, hard pvp di solito si fa su Minecraft Ah, uccidi tutti Allora, ho ucciso il nonno Non posso passare perché non salta ma... Dovrei saltare Qui ci sono... Guardate Sembra che abbia un pe... Ho capito? Non mi fa passare Ma porca puttana Non posso neppure romperlo Boh, il tipo con l'aereo, dai L'ho fatto un casino Allora, non posso poi andare troppo alto Perché ci sono queste cose Ho visto adesso Quindi mi tocca buttarmi Ho vinto in 5 secondi Narrow hole Prova a passare il mio livello Però, allora Praticamente è limbo Ok Questo se passi Impossible Allora, poi Dai Impossible No, impossible Ok Praticamente è possibile Cosa sta succedendo? Chiamate un esercizio, mi prego Oddio Oddio ce l'ho fatta Oddio ce l'ho fatta Sono una leggenda Ora Stavo per cadere sopra la mina Fino del mondo Va bene Sono vivo Noob Vwe Va bene Allora Ma si è buttato da solo Scusate Ma non ha senso Allora Dai che ti spingo io su No, così muoio io Ok Io non sono Sono morto adesso Speed bridge Oh mio dio Oh mio dio Da quanto tempo Tu facevo Ah no Questo non è lo speed Cioè Pottor run È vero E sembra di stare sulle montagne rosse Comunque Taroc ma Va bene così Iguale Dai Dai Qualche trick Giusto per E la Come Sonic Come Sonic Con la differenza che Sonic Non aveva un figlio Rompipalle E non si ammazzava Con quale logica Me lo stai dicendo Ma no Ora qua praticamente Devo andare di impennata Oddio Signori Brumotti Kinder Fun Cioè Kinder Fun You can do some Raid stuff white Oh la la Allora Non so che cosa potrebbe succedere Ma Adoro Va bene Bene ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Commentate se volete Commentare Condividete Canale Telegram Twitter Instagram Tutto Tutto con la descrizione Iscrivetevi E attivate la campagna E non perdetevi Nessun video Che vi ricordo Usciamo ogni lunedì Per dire alle 14 e 15 E noi ci vediamo Nel prossimo capitolo Bellissima